Emma Marrone in sala prove con il suo ciuffo Ribelle, i fan la ammanno Più raggiante e solare che mai, Emma Marrone è tornata in sala prove per registrare il suo nuovo album e i fan sono più entusiasti che mai La cantante salentina è rientrata a Roma dopo aver trascorso una lunga estate calda tra Ibiza, il Salento e la Sicilia, godendosi il mare e la bellezza della natura La pop star ha postato una nuova foto sul suo profilo Instagram in cui sfoggia il suo air stile Ribelle, i fan non hanno fatto mancare i loro commenti di approvazione Emma Marrone e il suo fascino nature che ha conquistato i fan. Maglione chiaro, ma che ha leggero e il ciuffo Ribelle, Emma Marrone ha postato una foto che la ritrae in sala prove, intenta a registrare il nuovo album Nella didascalia, la cantante salentina ha raccontato ancora una volta il suo grande amore per la musica, condividendo con i suoi fan un momento così intimo e importante Il nuovo album, molto atteso, sarà un concentrato unico del suo talento e della sua energia positiva, i fan si sono dimostrati più curiosi che mai, chiedendole alcune anticipazioni Emma è diventata un autentico punto di riferimento del web, non solo per le sue capacità canore, ma anche per la sua personalità spiccata I suoi ammiratori non perdono occasione per seguire i suoi aggiornamenti, desiderosi di scoprire sempre qualcosa di nuovo sulla sua vita privata e professionale Nella foto postata su Instagram è stato molto apprezzato il fascino nature di Emma, che non perdi occasione per mostrare il suo air stile da star Negli anni la pop style italiana ha vissuto una beauty evolution straordinaria e la cura dei capelli è sempre stata al primo posto, Emma ama cambiare, seguendo le ultime novità della moda e adattandole al suo stile unico ed inconfondibile Emma è la sua vita tra stile e musica. La vita di Emma Marrone è un concentrato di stile e musica, condiviso con il pubblico che la segue dagli esordi della sua carriera in televisione Considerata una delle cantanti italiane più talentuose del momento, Emma è diventata anche un'icona del mondo del web, lavorando come trendsetter e testimonial per alcuni importanti brand di moda e beauty Desiderosa di conferire ai suoi look un tocco indimenticabile, la cantante Salentina non dimentica di condividere con i suoi fan gli outfit che indossa durante la sua vita quotidiana e i suoi numerosi impegni lavorativi La sua personalità eccentrica e rock le ha permesso di osare con il look, diventando sempre più bella e sexy, gran parte del pubblico femminile infatti non perdi occasione per rivolgere ad Emma domande di stile e di bellezza Nonostante sia ancora single, la cantante sta vivendo un momento molto positivo della sua carriera professionale e racconta ogni piccola novità al suo pubblico, che è sempre pronta a sostenerla con affetto e ammirazione Una donna forte e indipendente, che ha fatto della musica il suo unico stile di vita, Emma Marrone è senza alcun dubbio una delle star italiane più acclamate del momento Grazie per la visione